Musica Occhio a Mizzolà, palla profonda per Agudeno, la palla resta a Mizzolà! Mizzolà, sempre in balanzolà, uno a uno, di nuovo equilibrio al picco! Giaiare per Tessers, una copertura via a Caldana, poi l'equipera Sernicola, cross interessante verso il centro, è il pareggio di Pichel, 2 a 2! Dicevamo partita forte la Cremonese in questo secondo tempo, ma qui è bravissimo Sernicola a mettere una palla, incredibile con i tiri contatti! C'è un appoggiante dell'Inter, Lautaro! Lautaro Martinez torna a segnare dopo 5 partite di campionato, il coro si riprende la rete, 1 a 0! Grande giocata! Campiaso, Barrow, prova a liberare destro per la conclusione forte, Bucameret! 2 a 2, pareggiato subito il Bologna, qui con la complicità però! Trasso poi, magia di Vicky Italian! Poggio, Lautaro, perciò la nobbre, da fermo, innesca, Barella, grande stop, finire di gore, Barella controllo, Barella! Il testo accanto, la Sanzino, azione da Playstation! Tessi strappa dall'altra parte verso D'Andrea, pallone per lui, D'Andrea, morbido secondo palo, arriva Chiri a Copulos! Segna, un gol fantastico, un gol che va nel 1 a 0! Sanzino, un gol perfektionato, innesca, Barella!